Sono un toscano di adozione, se mi è permesso di dire questo, perché la mia famiglia abita a Firenze e per cui cercherò di mettere a frutto, anche su questo territorio, la conoscenza della Toscana e delle caratteristiche toscane. È un siciliano in terra toscana, è il nuovo questore di Arezzo che comunque ha maturato gran parte della sua esperienza professionale proprio a Firenze, si tratta di Fabio Salvatore Cilona. Se il Santunenne è nato da Grigento, Cilona arriva dalla questura di Rovigo. Oltre 30 anni di carriera lo hanno visto impegnato prima alla squadra mobile e alle volanti di Firenze, poi alla dia di Padova. Ancora Firenze come direttore del reparto mobile ed infine vicequestore vicario prima a Prato, poi a Pisa. Tra gli obiettivi primari quello di ridurre il gap tra l'insicurezza percepita dai cittadini a fronte dei dati recenti sulla sicurezza reale. Quindi controllo del territorio, dovremmo passare dal controllo del territorio al territorio controllato, naturalmente sia in via di prevenzione che in via di polizia giudiziaria. Io come sapete, come vi ho detto, ho un'esperienza di tipo operativo. Capisco che bisogna implementare sicuramente questo tipo di attività nel limite delle nostre possibilità. Le donne e gli uomini della Polizia di Stato di Arezzo ce la metteranno tutta per poter contribuire a richiudere il più possibile questa forbice che c'è fra la sicurezza percepita e la sicurezza reale. Verranno anche nuovi agenti ad Arezzo? Adesso fatemi vedere, spero proprio di sì e vediamo un attimino che cosa ci arriva dal Dipartimento.